Kim Kardashian, tanga e lato b da urlo su Instagram L'ultima foto pubblicata da Kim Kardashian ha creato uno scalpore enorme, perché sfoggia un fisico privo di imperfezioni. Bellezze al bagno a Malibu. Può un corpo essere senza difetti? Che si sappia no, ma quanto pare Kim Kardashian ha scovato il segreto per non avere la minima imperfezione sul suo fisico. Kim è stata fotografata su una spiaggia di Malibu con un bikini che non lasciava spazio né all'immaginazione né agli inestetismi della cellulite. Stesa sul bagnasciuga con un'amica, Kim Kardashian ha optato per un costume molto minimal formato da tanga e bikini nero e la sua immagine è stata ovviamente catturata da un paparazzo appostato sulla spiaggia, Quale sorpresa per i fan della regina dei reality scoprire che il corpo che mostra su Instagram spesso accusato di essere falsato da Photoshop è in realtà reale. Un fisico molto diverso da quello che hanno visto i fan qualche mese fa, quando Kim Kardashian sempre in bikini è stata invece fotografata in Messico, lì la socialita assomigliava a tutte le altre donne normali che popolano l'universo mondo e aveva una buccia d'arancia tutt'altro che accennata. Una cosa normale, se non fosse che i fan di Kim sono andati su tutte le furie, accusata di propinare tramite i social un falso ideale di perfezione che nella vita reale non esiste, ha perso circa 100.000 followers in pochissime ore. Se inizialmente la moglie di Kanye West non ha commentato l'accaduto, preferendo rimanere in silenzio, dopo qualche settimana ha deciso di pronunciarsi ed è andata su tutte le furie, quelle foto che l'hanno mostrata così simile a tanti donne nel mondo, ha detto, erano state modificate dai fotografi dei magazzini per vendere più copie. Un'accusa molto pesante, alla quale non c'è stata replica. D'amore di d'accordo con Kanye. D'amore di d'accordo con Kanye West. Che sia per l'arrivo del tanto atteso terzo figlio. Ovviamente non c'è nulla di confermato che i meccanie stanno mantenendo il riservo più assoluto sulla vicenda ma alcune fonti vicine alla coppia hanno confermato che la donna scelta come surrogata per la gravidanza sarebbe già incinta, e che il terzo figlio dovrebbe arrivare a gennaio. Se Kim stesse cercando qualcuno che potesse portare avanti la gestazione al posto suo non è una novità, Kourtney, Khloe, persino Kris Jenner hanno sostenuto tutti gli esami per poter aiutare la sorella e la figlia. Kim Kardashian sembra aver trovato la soluzione al di fuori della sua famiglia, anche se un nuovo rumor sulla presunta gravidanza di Kylie sta facendo pensare a qualcuno che sia proprio lei la madre surrogata scelta da Kim Kardashian. Una spy story in piena regola, ma chissà dove finisce la verità, si mischia la fantasia e inizia il gossip. Grazie a tutti.